La cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier polacca Beata Schildo da Varsavia hanno sottolineato la necessità di collaborare nell'interesse dell'Unione Europea senza negare qualche divergenza. Merkel ha insistito sulla sua visione di un'Europa a più velocità. La cooperazione in un nuovo campo deve essere aperta a ogni paese membro. A un paese membro questo potrebbe non piacere, ma non ci possono essere club esclusivi chiusi agli altri. E' questa la base della nostra cooperazione. Opposto il punto di vista della Polonia che punta un ruolo da protagonista nell'est dell'Europa e quindi promuove un punto di vista piuttosto sovranista in cui gli stati mantengano le loro prerogative. Secondo Schildo è qui che bisogna trovare la radice di fenomeni come la Brexit. La Brexit è un fatto che accade secondo certe circostanze e per determinate ragioni. Noi dobbiamo rispondere alle domande e cercare di risolvere questi problemi. La posizione della Polonia è che dovremmo dirigerci verso il progresso e l'unificazione dell'Unione Europea, ma nel rispetto e con il rafforzamento degli stati nazioni.